Controlli ad ampio raggio dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro nei territori di San Severo, Manfredonia, Cerignola e Foggia, dove è stata effettuata un'attività di monitoraggio finalizzata a contrastare l'utilizzo di manodopere irregolare o in nero, lo sfruttamento di lavoratori agricoli, soprattutto se clandestini. Nell'ambito di tali attività, coordinate dall'Ispettorato territoriale del lavoro di Foggia, sono state controllate 42 aziende agricole, di cui 23 risultate irregolari, identificati 272 lavoratori agricoli, di cui 31 sono risultati irregolari, e 23 occupati in nero, di questi 8 erano privi di permesso di soggiorno. Per 7 aziende agricole è stato necessario attuare il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, in quanto è stato accertato l'impiego di personale non risultante dalle scritture obbligatorie in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati. Inoltre sono stati denunciati in stato di libertà 7 imprenditori agricoli per violazione al testo unico in materia di sicurezza e denunciati in stato di libertà 2 imprenditori agricoli per aver occupato le proprie dipendenze cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno. Accertate violazioni amministrative in materia di lavoro e combinate maxi sanzioni per lavoro nero per circa 100.000 euro, nonché adottati 8 provvedimenti di prescrizione penale e relativamente per un totale di 51.000 euro.